La distensione degli ultimi giorni nel Mediterraneo orientale dopo settimane di frizioni fra Grecia e Turchia fa ben sperare per l'avvio di un negoziato. Il rientro in porto della nave turca Oruç Reis, impegnata in sondaggi sismici per la ricerca di idrocarburi in una zona contesa fra i due paesi, concede alla diplomazia europea una finestra per cercare una soluzione a una disputa territoriale che si protrae da tempo. Valuteremo la possibilità di una conferenza multilaterale perché oltre al dialogo fra le due parti serve che diversi paesi si siedano al tavolo per discutere varie questioni, ha detto il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ad Atene. Se avremo un segnale di volontà tangibile e continuativo, siamo pronti a iniziare subito, e sottolineo subito, un colloquio preliminare con la Turchia sul nostro argomento di maggior attrito, la demarcazione delle nostre acque territoriali e le zone economiche esclusive nell'Egeo e nel Mediterraneo. L'alto rappresentante per gli affari esteri, Joseph Borrell, ha espresso la linea della Commissione europea al Parlamento di Bruxelles. Quanto successo quest'estate è inaccettabile, la Turchia deve trattenersi dall'intraprendere azioni unilaterali, e questa è una condizione di base perché il dialogo possa continuare, anzi partire. Fra i paesi europei non c'è accordo sulla possibilità di sanzionare la Turchia. Alla linea dura della Francia si contrappone quella dialogante tedesca. Qualsiasi decisione sarà difficile, ha concluso Borrell.